buonasera a tutte e tutti grazie di essere qui benvenuti io sono Tommaso Perrone direttore di Livegate siamo qui per il secondo appuntamento di un ciclo di quattro incontri che appunto sono ispirati a una newsletter che si chiama Il Climatariano e che seguo da oltre quattro anni e che appunto ha dato vita a questo ciclo di incontri qui al circolo dei lettori che ringrazio per l'organizzazione che sono contento che abbia osato nel cercare di organizzare qualcosa che parlasse di clima anche quando magari non ci sono i riflettori puntati come possono essere le conferenze sul clima o altri momenti caldi durante l'anno questo appunto il secondo appuntamento di quattro il primo è stato due settimane fa l'abbiamo tenuto con un altro giornalista Ferdinando Cotugno che è un giornalista freelance ma che scrive soprattutto di clima per il quotidiano domani incontro che peraltro potete riascoltare rivedere anche su gli account del circolo in particolare su youtube e per chi invece preferisce solo l'audio su soundcloud cos'è Livegate? È un network di informazione che fa si occupa di sostenibilità di ambiente di clima da oltre 20 anni il network è ovviamente un luogo dove noi cerchiamo di informare quotidianamente proprio sulla sfida sulla questione climatica però si fa anche molto altro come ad esempio fare divulgazione sul campo attraverso incontri su tutto il territorio nazionale. Io ringrazio e sono molto contento degli ospiti di oggi in particolare di fianco a me c'è Marta Elena che è una ricercatrice del centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici. Marta l'ho conosciuta proprio durante una conferenza sul clima ormai diversi anni fa dicevamo forse durante la cop 21 se non sbaglio quindi nel 2015 quando l'accordo di Parigi è stato adottato e quindi ti ringrazio di essere qui. Grazie a te. Ma da remoto ecco lo vedete già sullo schermo è con noi e niente po po di meno che Carlo Buontempo che è il direttore di Copernicus ovvero quell'agenzia, quell'ente, quel servizio europeo che ci informa su come sta andando, su come sta evolvendo la crisi climatica ovviamente nel nostro continente ma non solo. Benvenuto Carlo. Grazie un piacere essere con voi anche se purtroppo solo in modo virtuale. In modo virtuale perché dove ti trovi in questo momento? Sono appena arrivato in Lussemburgo dove domani presenterò il rapporto sullo stato del clima che abbiamo lanciato ieri con l'organizzazione meteorologica mondiale alla banca europea degli investimenti per cui non potevo riuscire a essere con voi fisicamente mi dispiace. Figurati ci mancherebbe anzi soltanto la tua stimolanza video e sarà molto preziosa e lo capiremo via via perché appunto lo hai anticipato avete lanciato un rapporto che è fondamentalmente qualche cosa di ormai fondamentale per capire dove stiamo andando è qualche cosa che annualmente ripetete da diverso tempo è appunto il rapporto sullo stato del clima in Europa ed è stato appunto lanciato ufficialmente ieri era sotto embargo da da un po' come giornalisti non vedevamo l'ora di tirar fuori questi grafici e questi numeri però per far capire terra terra che cosa fa e che cos'è Copernicus è ciò che è l'istituto che tutti i mesi ci informa su quanto fa caldo quanto è cambiata la temperatura noi ormai abbiamo un appuntamento fisso l'otto del mese per capire effettivamente come è andato il mese precedente come sapete sono mesi ormai che purtroppo i record soprattutto di temperatura media stanno aumentando e si stanno battendo record su record si è che stanno facendo una domanda adesso ne parleremo ne parleremo pian piano poi ci saranno anche delle domande dal pubblico man mano anzi io lascerei proprio la parola a te Carlo nel senso che ovviamente sarebbe importantissimo per noi capire che cosa significano tutti questi record perché in qualche modo non ci dobbiamo abituare ma soprattutto se ci dai anche un po' quelli che sono dei riferimenti no perché ovviamente voi come scienziati già state vivendo una situazione straordinaria che anche per voi immagino è qualcosa che non vi aspettavate forse in modo così veloce che sta accadendo sul nostro pianeta figuriamoci per delle persone normali tra virgolette comunque persone non esperte non appassionate e che quindi hanno bisogno di punti di riferimento per capire un po' dove siamo proiettati sì no lo faccio con molto piacere effettivamente come dicevi il programma Copernico è un programma di essenzialmente di osservazione della terra da satellite ed è suddiviso in una parte che si occupa dei satelliti della progettazione del lancio dei satelliti così via e una parte è costituita dai servizi e in particolare il servizio dei cambiamenti climatici che dirigo si occupa ovviamente di questo dei cambiamenti climatici e un po' come dicevi non so se si vede lo schermo no? forse varrebbe la pena iniziare da un'immagine e non voglio ho moltissime immagini e potrei parlarne per ore però cerco di essere sintetico e andare al nodo della questione questa immagine questo grafico che si vede rappresenta l'andamento della temperatura nel corso dell'anno e le diverse linee colorate dall'azzurro blu al rosso rappresentano l'evoluzione annuale delle temperature come anomalie rispetto al periodo dagli anni 90 e 2020 nei vari anni e chiaramente si vede dalla scala di colori che a partire dagli anni 40 in poi gradualmente il clima globale si è andato si è andato riscaldando e la linea rossa più spessa e rosso più acceso rappresenta l'evoluzione del 2023 ecco secondo me questo grafico parla parla da solo nel senso che ci dice che dal giugno del 23 fino alla fine dell'anno e poi fino adesso perché il record non sono la sequenza di record non è finita ogni mese è stato in un suo momento il mese più più caldo mai registrato e questa è una serie temporale che inizia negli anni 40 ovviamente abbiamo incertezze più grandi negli anni 40 di quante non ne abbiamo adesso però comunque è una serie abbastanza affidabile e ci dà un'idea di come il clima globale sia cambiato se invece di guardare la temperatura dell'aria guardassimo la temperatura degli oceani in particolare gli oceani non coperti da ghiaccio non coperti dalla banchisa e di nuovo è un grafico molto simile a quello precedente salvo che invece di guardare le anomalie guardiamo le temperature assoluti del mare in gradi centigradi e non ho usato una scala di colori semplicemente ho messo tutti gli anni dal 79 in poi in grigio le linee giallo rossa e nera rappresentano rispettivamente il 2016 che era stato l'anno più caldo fino adesso il 2023 e l'inizio del 2024 e anche qua spesso si parla di un territorio sconosciuto per il clima e penso che di nuovo questi grafici diano una testimonianza diretta di cosa questo voglia dire e secondo me è importante anche dire che e questo fa riferimento alla tua introduzione che non sappiamo tutto ci stanno il 2023 ha dimostrato chiaramente che ci stanno delle cose che sono successe con una scala con una rapidità più alta del previsto con intensità più forte del previsto o semplicemente cose che avevamo pensato possibili assolutamente improbabili sono avvenute uno degli esempi in questo senso è quello che è successo al ghiaccio marino intorno all'Antartide per quelli che si interessano al problema forse si ricorderanno che l'Antartide per molti anni e decenni era rimasto come un continente dove quasi non si notava il cambiamento climatico la perdita del ghiaccio antartico era minima ed è rimasta minima fino alla fine degli anni 10 verso il 2017 o giù di lì dove si è iniziato a vedere un calo ecco nel 2023 il calo è stato mostruoso forse questa è l'unica parola che viene in mente e questi sono alcuni dei grafici che abbiamo prodotto noi in cui si vede che in alcuni mesi addirittura l'anomalia è stata nell'ordine del 30% ne ho parlato, io ne sono rimasto stupito personalmente ma ne ho parlato con persone che si occupano direttamente di dinamiche del ghiaccio della banchisa antartica e anche loro erano rimasti stupiti e non hanno necessariamente una comprensione sufficiente per spiegare perché sia successo nel 2023 e non in un altro anno perché sia stata così repentina e in un qualche senso io penso che nel ruolo di scienziato che si occupa di clima sia la nostra responsabilità anche dire che ci sono ancora molte cose che non sappiamo che dobbiamo studiare meglio, che dobbiamo imparare e questo è il motivo per cui molti di noi fanno questo lavoro il dubbio e la curiosità e le cose inaspettate sono il motore principale della ricerca scientifica per cui secondo me è importante anche nella comunicazione sottolinearlo però d'altra parte ci stanno molte cose che sappiamo e credo che potremmo fare meglio di come stiamo facendo nell'utilizzare queste questo è un altro esempio di quello che dicevo questo è il nostro collega Zekhe Hausfatter che lavora a Berkeley e utilizzando i nostri dati, questa è l'anomalia di settembre è uscito con questa frase, questo è un articolo sul Guardian che era apparso giusto a settembre for Gobs-Banklin bananas rispetto a come non si può tradurre semplicemente è completamente incomprensibile quello che succedeva ecco questo io penso che sia importante sia importante dirlo, che non sappiamo tutto che ci sono cose che ci stupiscono e ci sorprendono però come dicevo secondo me è anche importante sottolineare che ci sono molte cose che invece sappiamo e che questa informazione la potremmo utilizzare meglio e questo stato del clima che abbiamo lanciato ieri e di cui vedete i due autori principali Rebecca e Andrew una dell'ICNWF che è l'organizzazione per la quale lavoro e che è uno di questi centri di eccellenza europei di cui probabilmente nessuno ha sentito mai parlare e si occupa essenzialmente di previsioni meteorologiche centro che peraltro avrà poi la sede anche in Italia giusto? ah già la sede, una, due o tre sedi ne abbiamo una a Reading nel Regno Unito una a Bonn dove sta la maggior parte del team che si occupa di clima e il supercalcolatore che sta a Bologna qui siamo già, siamo già là e questo rapporto che abbiamo lanciato ieri dà un po' il senso, la scala di quanto sta succedendo questi sono numeri, i numeri sono complicati sono difficili da vedere per cui poi cercheremo di renderli più visibili però essenzialmente il rapporto descrive un clima che continua a riscaldarsi dove le concentrazioni di gas serra continuano ad aumentare e anche l'incremento di anno in anno non tenda a diminuire anzi neanche a stabilizzarsi al momento e in Europa ci riscaldiamo sfortunatamente a un ritmo superiore a quello della media globale anche per il fatto che il dominio europeo che consideriamo ha una buona parte di Attico che come sappiamo è una regione globale che si scalda di più e ovviamente non è solo la temperatura è il livello del mare che sale e sale circa di 3 mm l'anno al momento che vuol dire che dal momento in cui andavo all'università adesso è cresciuto di circa 10 cm e queste non sono proiezioni queste sono date, sono osservazioni sono fatti se vogliamo dirlo in modo semplice vuol dire impatti sulle attività umane vuol dire impatti sulla criosfera e anche qui abbiamo abbiamo un paio di esempi per esempio vado veloce perché non voglio perdere troppo tempo e so che ci stanno tantissime informazioni invece mi piacerebbe lasciare tempo per discutere e sentire domande secondo me è importante andare al di là dei parametri semplicemente fisici o climatici perché questa conoscenza che abbiamo del clima che si riscalda ha ovviamente anche impatti su di noi sugli ecosistemi sulle nostre attività e per esempio un esempio sono queste ondate di calore che hanno colpito il continente nell'estate scorsa e hanno colpito non solo le aree tradizionali come si vede in questo grafico ma hanno colpito anche aree come può essere il Regno Unito o la Francia o parte della Germania dove normalmente le ondate di calore sono meno frequenti o hanno impatti meno visibili ops un istante e questo è importante perché questo potrebbe essere stato anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto una stagione degli incendi che in Europa in Italia forse salvo la Sicilia non è stata particolarmente intensa ma nel Mediterraneo nel suo complesso è stata importante e soprattutto è stato l'anno in cui abbiamo visto questo incendio mostruoso in Grecia che ha causato cioè il più grande che abbiamo mai visto come dicevamo non sono solo le temperature dell'aria ma anche la temperatura degli oceani in particolare questo evento che è avvenuto nel giugno dell'anno scorso e ha colpito soprattutto l'Atlantico settentrionale e in particolare la costa est dell'Atlantico settentrionale ha raggiunto livelli altissimi di temperature questo ha impatti sugli ecosistemi e impatti sulle risorse ittiche e sul in un qualche senso almeno nel Mediterraneo ma anche sul turismo ma possiamo andare anche al di là questo se guardiamo per esempio l'impatto sulle nostre montagne sul e sul il ghiaccio dei ghiacciai alpini ci rendiamo conto che è veramente un cambio epocale cioè dalla fine degli anni 70 adesso abbiamo perso circa 850 km pubblici di ghiaccio in Europa e soltanto negli ultimi due anni cioè nel 2022 e 2023 i ghiacciai delle Alpi hanno perso circa il 10% del loro volume ovviamente non c'è bisogno di spiegarli questi sono numeri che parlano da soli che ci raccontano come chiunque poi parlando a Torino anche se in remoto mi immagino molti di voi montanari e esploratori delle nostre delle nostre montagne basta basta andare in montagna per rendersene conto del cambiamento epocale che questo rappresenta però è importante avere i dati a supporto di questo perché alla fine le nostre scelte sono dovrebbero almeno essere basate sui fatti e sulle informazioni che abbiamo su questo clima che sta cambiando non è ovviamente soltanto la criosfera il 2023 è stato un anno in cui abbiamo visto delle inondazioni molto significative l'Emilia Romagna forse come italiani è quello che ci viene più più facilmente in mente ma la Slovenia è stata colpita da una inondazione molto significativa che ha colpito una buona parte della superficie e ovviamente la Grecia in cui in due giorni è piovuto quanto normalmente piove in un anno in questo caso la grafica rappresenta una serie di bacini europei che hanno raggiunto lo stato di allarme nel mese di dicembre soprattutto a fine anno la maggior parte dei grandi bacini europei erano in condizioni di flusso estremo con una quantità di portata estrema e questo ovviamente ha generato questi questi è stato una delle cause di questi eventi alluvionali che hanno colpito varie parti del continente Carlo ti interroi un po' giusto per magari poi lasciare anche spazio a alcune cose che magari arriveranno dopo solo una domanda se c'è un grafico in qualche modo positivo perché io leggendo poi sfogliando il rapporto si parlava anche di energia ed è forse l'unico aspetto citato nel rapporto che nonostante cresca aumenti ci siano dei record in tal senso però in quel caso sono positivi sì secondo me penso che forse questa sia la trasparenza a cui ti riferisci e poi mi fermo qui perché come dicevo so che posso continuare a parlare di queste cose per ore e non è utile la nostra conversazione per cui mi fermo su questa trasparenza e come dici lancia un segnale positivo questa rappresenta due cose da una parte rappresenta il fatto che in realtà in 2023 una proporzione record dell'energia generata in Europa è venuta dalle rinnovabili siamo al 43% che vuol dire aver cresciuto di circa il 6% rispetto all'anno precedente che è un ottimo segnale ovviamente se quello a cui puntiamo è una decarbonizzazione dell'energia ma l'altro aspetto importante è il fatto che possiamo dettagliare quelle che sono state le variazioni del potenziale delle rinnovabili per i vari settori cioè dal vento al fotovoltaico o all'idroelettrico ed è importante avere questo questo va nella direzione di quello che dicevo dell'importanza ai dati perché nel momento in cui il mix energetico che utilizziamo ha una componente più importante e rinnovabili ovviamente cresce anche la dipendenza delle nostre risorse energetiche dal clima e quindi saper gestire i momenti in cui ci sta più disponibilità ai momenti in cui ce ne sta meno diventa particolarmente importante la storia del rapporto di due anni fa era quella della siccità di vento che aveva colpito una buona parte nel nord Europa dove è anche installata la più grande capacità eolica a livello europeo quest'anno la storia è positiva perché in una buona parte d'Europa c'è stato un eccesso un aumento rispetto alla media della produzione solare in particolare nel sud ovest la parisola iberica in particolare e c'è una tendenza generale una riduzione della nuvolosità in Europa e quindi un aumento dell'aviazione solare per cui almeno su questo fronte magari ci sta una notizia positiva per cui mi fermo qua per il momento e poi magari ne possiamo riprendere nella discussione dopo grazie mille anche perché appunto ci dè la possibilità in qualche modo di gestire tutta questa mole di dati Marta nel senso che ovviamente noi poi come persone in questo caso come cittadini nel senso proprio come abitanti di una città come può essere Torino come può essere Milano poi alla fine ci rendiamo conto di essere anche in qualche modo responsabili di tutto questo ovviamente non per forza in modo diretto a volte sì però è proprio nelle città che c'è la sfida forse più grande a livello di lotta contro la crisi climatica perché è in città che oggi vive il 70% della popolazione che conta ormai più di 8 miliardi di persone quindi il 70% di questi 8 miliardi vive in città la mia domanda anche poi magari introducendo quello che fa il centro euro mediterraneo su cambiamenti climatici perché appunto come ci diceva Carlo comunque il mediterraneo in particolare in Europa è uno degli hot spot della crisi climatica quindi dove effettivamente dobbiamo agire di più però noi come persone come abitanti di una metropoli in che modo possiamo trasformare tutta questa informazione in una diciamo dinamica di adattamento sia come persone quindi come noi possiamo contribuire all'adattamento ma anche poi come subirne le conseguenze positive di una grande città quindi come le città possono aiutarci ad adattarci a un clima che è già cambiato ok grazie per questa domanda perché magari dà un po' di speranza allora giusto per contestualizzare un po' chi sono e da dove vengo come diceva Tommaso io faccio parte di questo centro di ricerca che si chiama CMCC detto in acronimo e nello specifico io mi occupo di adattamento al cambiamento climatico quindi diciamo che il cambiamento climatico si scinde poi in due grandi rami una la mitigazione al cambiamento climatico e l'altra l'adattamento quindi come adattare i territori agli impatti previsti e correnti del cambiamento climatico nello specifico dal punto di vista politico supportiamo il ministero dell'ambiente proprio nelle negoziazioni relative all'adattamento al cambiamento climatico mentre per quanto riguarda le mie attività di ricerca supportiamo enti come una città così come ferrovie dello Stato e diversi diciamo enti che necessitano di stime soprattutto per quanto concerne l'analisi dei rischi previsti e correnti appunto quindi questo è giusto per contensualizzare chi sono e cosa faccio in relazione invece Tommaso alla tua domanda le città appunto sono considerate un hotspot in relazione al cambiamento climatico perché perché ci vive la popolazione la maggior parte della popolazione perché si concentrano tutte le attività economiche principali e allo stesso tempo se si considera per esempio il continente europeo il fatto che la popolazione sta invecchiando rende diciamo i cittadini maggiormente esposti agli impatti in quanto una persona anziana ha meno capacità fisiche di far fronte a un impatto rispetto diciamo a una popolazione giovane e cosa è un caso dicevamo appunto anche la volta scorsa che in Svizzera sono state proprio le anziane per il clima che in quanto più diciamo vittime delle ondate di calore sono riuscite ad ottenere una vittoria alla corte europea proprio perché sono le più vulnerabili anche paradossalmente infatti è stato molto bello da vedere come diciamo azione anche perché negli ultimi anni grazie al movimento giovanile il cambiamento climatico ha iniziato a essere diciamo più il tema del cambiamento climatico ha sensibilizzato più gente tramite diversi canali i giovani in questo secondo me hanno avuto un ruolo cruciale basti pensare che io ho iniziato il dottorato nel 2017 e mi veniva sempre richiesto se effettivamente il cambiamento climatico esisteva molto spesso mi veniva chiesto almeno una volta a settimana invece ad oggi quasi non mi viene chiesto tuttavia sarebbe anche bello approfondire un po' questi eventi servono anche per approfondire un po' perché il cambiamento climatico c'è cioè cos'è questo cambiamento climatico in atto qual è la relazione con il riscaldamento globale detto questo forse sono andata fuori fuori tema le città hanno un ruolo cruciale così come i suoi cittadini proprio per le diverse variabili che abbiamo citato il cittadino ha in questo contesto un'azione cruciale in quanto se sensibilizzato e attivo su questi temi può diciamo fare advocacy quindi pressione ai decision makers locali per diciamo diventare più attivi o intraprendere delle azioni mirate che servono sul territorio faccio due esempi nel contesto italiano c'è il caso della città di Bologna che proprio in tema di partecipazione ha deciso di creare un'assemblea di cittadini che sono circa 100 cittadini di cui 80 residenti e 20 invece pendolari proprio perché Bologna è una città molto ricca di studenti che fanno appunto i pendolari e li rende partecipi all'interno dei processi amministrativi della città proprio per far sì che il cittadino sia promotore delle azioni di adattamento che la città necessita fare in relazione agli impatti del cambiamento climatico in questo caso giusto un escurso se gli impatti del cambiamento climatico sulle città principalmente nel contesto europeo hanno un foco specifico su alluvioni e ondate di calore che poi portano a diciamo questo fenomeno di urbanite island che è legato al fatto che le superfici delle città sono principalmente impermeabili e quindi il microclima urbano di riferimento peggiora creando delle situazioni di discomfort index sulle persone che tra l'altro poi se me lo permetti di dire è un po' il tema che ho portato avanti all'interno della mia tesi di dottorato prendendo in considerazione una serie storica su Torino che è la più lunga in Italia che unisce indicatori sociali ed economici e demografici alla vita della salute della popolazione e in quel caso insieme appunto all'ASL Torino 3 e al CMCC che ha fornito i dati climatici siamo stati in grado di dare una informazione di dettaglio su quella che è la diversificazione del rischio da ondata di calore per la popolazione guardando poi a due aspetti fondamentali uno è quello regato alle disuoglianze sociali quindi con quanta gente vive in casa che reddito che livello di educazione ho avuto ospedalizzazioni non ho avuto ospedalizzazioni e altre variabili e l'altro invece ha preso in analisi l'ambiente costruito quindi vivo vicino a un parco vivo vicino a un fiume ho dei servizi nelle mie vicinanze che possono essermi utili ci sono dei poli di refrigeration in cool places si definiscono cioè dei poli freschi come le librerie oppure i cinema o i centri commerciali in cui posso effettivamente entrare se sono in casa e non ho l'aria condizionata quindi questo portato poi è un'identificazione di zone di hotspot dentro la città e al momento stiamo lavorando su un progetto che vuole unire tutte queste informazioni all'interno di un tool che sia utile da utilizzare ai tecnici della città proprio per capire effettivamente dove andare a concentrare le azioni di adattamento al cambiamento climatico in relazione al calore con priorità e la città ha un early warning system quindi un'allerta da calore anche molto efficace efficiente tuttavia considera la città di Torino come unità aggregata e sarebbe interessante cosa che stanno tra l'altro facendo diversi ricercatori in Europa specialmente al Barcelona Global Institute che capire effettivamente qual è la diversificazione del rischio dentro la città perché una zona che ha a parella può avere un maggiore rischio rispetto a una zona che è nella fascia collinare della città ovviamente perché il microclima è diverso il reddito è diverso e quindi anche le capacità di potersi proteggere sono diverse in qualche modo l'hai anche già anticipato però i cambiamenti climatici in città possono poi anche incidere sullo sviluppo della città stessa in senso di disuguaglianze piuttosto che creazione di periferia quindi cittadini di serie A di serie B in che modo diciamo anche la giustizia sociale si interseca con quella climatica e questo è un tema molto ampio perché possiamo parlare di disuguaglianze sociali a livello internazionale quindi per esempio in considerazione dei negoziati che ci sono tutti gli anni in queste conferenze sul clima che si chiamano Conference of the Parties perché lo si chiamano COP e in quei casi lì i documenti negoziali parlano proprio di questa diversificazione proprio in termini monetari ma anche di competenze tecniche per far fronte agli impatti del cambiamento climatico ma anche per potersi per poter avere una condizione per mitigare le emissioni in qualche modo questo è un contesto internazionale infatti le ultime COP hanno preso un po' diciamo la piega del focus specifico su adattamento anche perché i paesi i developing countries come vengono definiti appunto all'interno dei documenti o least developed countries quindi i paesi meno sviluppati stanno facendo pressione per dire noi abbiamo bisogno di soldi non solo per adattare il territorio ma anche per aumentare le nostre competenze tecniche perché molto spesso anche per accedere a determinati fondi il processo burocratico è talmente complesso che fa sì che alcuni paesi possono rimanerne fuori dal punto di vista invece locale quindi per passare dall'internazionale al locale un po' più specifico ovviamente purtroppo c'è questo ciclo vizioso che è già stato diciamo pubblicato è reso noto in un report delle Nazioni Unite in un paper scientifico nel 2017 e c'è questo ciclo vizioso dove i più vulnerabili poi sono i più colpiti e sono quelli che poi anche ex post rimangono i più colpiti e quindi non si riesce molto a uscire da questo e a volte anche i meno responsabili poi della crisi climatica stessa assolutamente sì diciamo che una delle principali obiezioni che vengono fatte quando appunto faccio presente quello che hai appena detto tu e l'osservazione che i paesi come la Cina e l'India in effetti continuano a fare come fanno e quindi perché noi dovremmo muoverci tuttavia i contesti sono diversi e comunque basti pensare che appunto la Cina in termini di produzione di energia rinnovabile ma anche appunto di elementi da utilizzare all'interno del contesto delle energie rinnovabili è molto forte sta cercando appunto di innovarsi e di rendere diciamo i prezzi più accessibili possibili a tutti in ultimo per chiudere diciamo in relazione a questa domanda le periferie molto spesso soprattutto nel contesto italiano sono un po' isolate rispetto al centro città quasi in tutte le grandi città italiane sia per questioni di mobilità sia per questioni di mercati che di altro e sarebbe necessario ed è utile cercare di definire quali sono diciamo i punti cruciali all'interno delle periferie da contattare per poterli fare parlare con le amministrazioni infatti all'interno di un progetto che stiamo strutturando che si chiama Agora è un progetto europeo che abbiamo vinto due anni fa e finisce nel 2025 però si spera di poterci dare continuità l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere i cittadini della città di Roma perché il pilot italiano in questo caso è Roma e essendo che Roma sta sviluppando la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici in parallelo noi vogliamo creare più possibili possibilità per far sì che i cittadini possano dire la loro e in questo caso abbiamo contattato diverse NGO che lavorano per esempio con etni minorities quindi minoranze etniche ma anche centri contro la violenza sulle donne centri per la disabilità centri per diciamo le persone senza tetto per capire anche il loro punto di vista proprio perché la partecipazione dei cittadini è utile non solo in un senso io divulgo quello che so per sensibilizzarti ma è fondamentale anche l'inverso cioè io voglio sapere il tuo punto di vista rispetto al tema dell'adattamento al cambiamento climatico stiamo iniziando a capire che se vogliamo vincere la lotta contro la crisi climatica bisogna farlo tutti insieme un discorso corale dove scienza cittadini istituzioni amministrazioni comunque devono impegnarsi attivamente perché non c'è un attore più o meno in grado di agire in autonomia proprio perché la crisi climatica riguarda tutti nessuno escluso sia chi sta bene chi invece magari ha meno disponibilità ma anche ovunque nel mondo senza confini però ci sono poi delle differenze magari anche di ruoli torno da da te Carlo perché quello che vorrei chiederti è che spesso si fa poi confusione tra chi fa la scienza nel senso chi ci fornisce i dati chi è scienziato e chi poi deve prendere le decisioni perché mi immagino che anche scienziati climatologi oggi come oggi vengono un po' tirati per la giacchetta chiedendogli di essere un po' più attivi più protagonisti anche nella parte di azione cosa che però in realtà dovrebbe aspettare aspettare a chi poi come diceva Marta i decision making quindi politici amministrazioni eccetera eccetera ci puoi spiegare meglio anche questa differenza di ruolo che c'è tra voi e chi poi prende le decisioni e se effettivamente poi c'è invece visto la situazione eccezionale che stiamo vivendo anche da parte vostra un'eccezionalità esistono dei casi in cui è giusto che la scienza faccia un passo in più per trasformare quei dati quella teoria quelle evidenze in qualche cosa di più di pratico una domanda è una domanda molto buona una domanda molto molto complessa io penso che entrambe le cose siano vere in un qualche senso se da un certo punto di vista gli scienziati sono inevitabilmente tirati per la giacchetta ed è importante io credo come dicevo anche nella mia introduzione essere onesti rispetto alla scienza cioè essere onesti rispetto a quello che sappiamo e quello che non sappiamo e essere onesti sulle motivazioni della scienza o il motore a cui facevo riferimento perché una cosa è studiare il clima e ci stanno delle cose che non sappiamo ci sono per esempio ancora molti parti importanti del sistema climatico che sono scarsamente osservate su cui non abbiamo misure ancora abbastanza affidabili per cui secondo me questo è importante dirlo e dell'altra cosa importante è riconoscere un ruolo importante nel processo ai politici cioè gli scienziati possono avere un'opinione politica ci mancherebbe altro e possono essere più o meno attivisti ma il loro compito non è quello di fare politica come tale e ai politici e agli amministratori secondo me spetta il compito di rappresentare la volontà degli elettori rappresentare la volontà dei cittadini che inevitabilmente sono parte fondamentale di questo processo non penso che sia la responsabilità degli scienziati dire quello che bisogna o non bisogna fare ai politici i politici hanno il loro complessissimo lavoro da fare io penso che la nostra responsabilità come scienziati sia quella di fornire i dati in modo gratuito in modo aperto in modo che chiunque li possa analizzare e attrarre le proprie conclusioni e supportare il processo politico adesso le due cose non sono la domanda è complessa perché non penso che le due cose siano separate mi sembra che fosse Marcello Cini che diceva che non c'è scienza senza politica un po' ci sta della verità in questo per cui non penso che uno si possa completamente astrarre o pensare di essere il cavaliere solitario senza macchia che fa la ricerca e fornisce i dati agli altri ci sta comunque un'interfaccia con la società che è importante però secondo me è anche importante saper prendere le distanze e non pensare che gli scienziati possano da soli guidare il processo politico perché non è il loro compito è nell'interfaccia con il mondo politico esattamente come si diceva prima in questo lavoro di comunità di integrazione di comprensione necessità che secondo me si può avanzare a partire da quelle che sono le necessità di base le priorità nostre come cittadini e come elettori Prima Marta citava alcune città che stanno facendo qualcosa che anche a livello di cittadinanza attiva si stanno organizzando ti chiedo Carlo se per te c'è un modello di città o comunque di realtà in senso lato che si può usare come esempio senza ovviamente anche qui prendere troppo posizione però se secondo te esiste un modello di riferimento a livello internazionale che sta adottando sta capendo quella direzione molto pericolosa che spesso anche Guterres il segretario delle Nazioni Unite in modo figurativo parla di baratro c'è qualcuno che ha capito che bisogna tirare il freno e invertire la rotta Guterres secondo me è molto bravo a utilizzare un messaggio emotivamente accattivante e alle volte mette un po' in imbarazzo la comunità scientifica perché usa una terminologia che magari come scienziati non utilizzeremo a partire dai nostri dati a luglio lui parlò di essere entrati nell'età dell'ebollizione climatica che è molto efficiente come immagine retorica ma ovviamente non corretta scientificamente a livello internazionale secondo me è interessante anche là perché ci stanno delle realtà che si stanno muovendo in modo strategicamente interessante una che conosco perché sono parte del comitato scientifico del servizio climatico e meteorologico di Singapore è quella di Singapore e a Singapore che è una città che si trova quasi esattamente sull'equatore e quindi particolarmente vulnerabile parlavamo prima della vulnerabilità delle città l'equatore e in genere i tropici umidi sono particolarmente vulnerabili alle ondate di calore e il futuro è particolarmente rischioso per loro beh parlando con i ministri competenti in materia a Singapore loro hanno chiarissimo l'importanza strategica di questo e l'obiettivo di mantenere la popolazione di Singapore al fresco come una battuta è una priorità strategica del governo della città stato altri paesi magari ovviamente stiamo parlando di una realtà molto particolare da un punto di vista democratico o di rappresentazione però come alle volte accade con una capacità strategica che magari è più complicata in altri in altri paesi in Europa secondo me ci sta un aspetto interessante in questa direzione ed è quanto avviene adesso con la mission on climate adaptation che è una di queste missioni volute dalla commissione europea in qualche senso missioni strategiche che vuole trattare proprio l'aspetto dei cambiamenti climatici ma a partire dalla necessità e dalle volontà delle varie comunità cioè non tanto la scienza con i dati o il saggio di turno che ci dice cosa fare ma partendo come diceva Marta prima dal basso da quello che sono le necessità delle varie persone e cercando di identificare un po' come nell'esempio di Roma che si faceva o quello di Bologna che si faceva prima quelle che sono le priorità dei cittadini e costruire intorno a queste priorità un programma di adattamento questo mi sembra che siano dei modelli interessanti e utili da seguire e in entambi casi esiste questo aspetto strategico che penso che sia importante perché mentre la mitigazione a cui facevamo riferimento ha inevitabilmente bisogno di un accordo internazionale cioè la riduzione unilaterale delle emissioni non ha un impatto se non si riesce a arrivare a un accordo internazionale sull'adattamento l'adattamento ha una scala tipicamente locale o regionale e su quella abbiamo molto più margine di manovra e anche abbiamo la necessità di intervenire perché volenti o nolenti il futuro non è anche il futuro il presente come abbiamo visto nel rapporto è praticamente un presente in cui il clima attuale è fondamentalmente diverso dal clima in cui siamo cresciuti come individui e dal clima in cui la nostra civiltà si è evoluta per cui anche soltanto per vivere se riuscissimo a fermare l'orologio e rimanere nel clima attuale che non possiamo anche per vivere meglio nel clima attuale sarebbe necessario adottarsi ancora di più perché sappiamo che la temperatura continuerà ad aumentare e così via e mi faccio l'ultima domanda poi lasciamo spazio alle domande l'ultimissima a entrambi in questo caso magari appunto telegrafici così poi lasciamo spazio alle domande dal pubblico se noi dovessimo oggi guardare un dibattito televisivo piuttosto che leggere un giornale che in qualche modo nega alcune evidenze scientifiche che sono state dette qui oggi tu Carlo prima parlavi comunque di una percentuale ancora di incertezza perché ancora molte cose non le sappiamo però sappiamo che anche che il dibattito che spesso si vengono a creare sono spesso di natura più ideologica come dicevi tu prima che altro ecco se persone comuni anche in ottica visto che poi questo ciclo di incontri avrà come ultima tappa quello di cercare di capire a che punto siamo a livello europeo all'elezione europea dell'8-9 giugno il famoso Green Deal che è diciamo il percorso che noi oggi abbiamo unico per uscire dalla crisi climatica ci saranno immagino sempre più dibattiti come li dovremo affrontare cioè esiste spazio c'è spazio all'incertezza quanto di quello che sentiamo e ascoltiamo effettivamente corrisponde a una rappresentazione della realtà oppure semplicemente sono dinamiche politiche che è giusto che rimangano in quell'area magari prima Marta e poi e poi Carla e allora spazio all'incertezza è naturale che ci sia ed è un po' il nostro ruolo quello di cercare di fornire delle informazioni più possibili concrete e semplici di modo che il cittadino scettico che è giusto che lo sia entri più facilmente in sintonia con quello che la scienza sta cercando di comunicare e a tutte le stime che noi forniamo come avevamo discusso un po' di tempo fa con Carlo è associata comunque un'incertezza perché ovviamente lo scienziato cerca di dare una stima possibile precisa però c'è sempre un certo range di incertezza come in tutti i compartimenti della scienza cioè la scienza cerca di dire il miglior risultato possibile sulla base dei mezzi disponibili quindi tecnologia innovativa eccetera però appunto lo scienziato non ha la presunzione di dire questo è così al 100% o sarà così al 100% questa è la stima che oggi possiamo fornire il più possibile precisa con un certo range di incertezza il tema della sinformazione è un tema fondamentale infatti nel progetto europeo che citavo prima Agora abbiamo in previsione di fare due accademie online open source una legata proprio all'utilizzo dei dati climatici e a diciamo le nozioni di base relative sia ai dati che al rischio climatico sulla base di diversi tipi di conoscenza e invece l'altra è proprio orientata alla disinformazione cosa vuol dire accademia sulla disinformazione vuol dire che ci sono diversi step nel processo uno dei primi è quello di fare fact checking quindi capire quali sono i metodi innovativi per definire se una notizia effettivamente una fake news o no ovviamente in questo caso relativa al clima una volta che si scoprono diciamo queste notizie grazie a questi metodi andare a capire diciamo più o meno quale può essere la ragione principale per il quale effettivamente viene messa in giro questa notizia ma soprattutto screditarla non screditarla in un modo negativo ma dire effettivamente qual è la conoscenza della scienza in rispetto a questo e quindi verranno forniti poi diversi tool per esempio un'app che è un'app relativa appunto ci saranno domande relative al cambiamento climatico anche lì su diversi tipi di conoscenza proprio per far sì che i cittadini possano essere sensibilizzati in un modo semplice dando un'informazione abbastanza concreta e più semplice Carlo sì beh ovviamente sono d'accordo con quanto ha detto Marta ma la prima cosa che mi viene in mente di dire è è il fatto che in un qualche senso mi sento scippato del diritto di essere scettico perché scettico ti è diventato una brutta parola e come scienziato vorrei rivendicare invece il diritto di essere scettico lo scienziato è storicamente quello che mette sempre tutto in dubbio che non è mai d'accordo e funziona sul non essere d'accordo il motto della Royal Society è nullius in verba non prendo nessuno sulla parola voglio che me lo dimostri e questo secondo me è un aspetto importante che spesso viene trascurato la scienza funziona sul dubbio e sul mettere in discussione tutto e sempre per cui non è una questione non c'è problema avere dei dubbio mettere in dubbio quello che diciamo però poi ci sta il confronto con le osservazioni ci sta il confronto con i dati ecco mi sembrerebbe stupefacente non credere ai dati e forse siamo anche un po' responsabili di questo processo perché basta andare a una conferenza sul clima o scientifica sul clima e ci sta sempre un gruppo una riunione sulla comunicazione e l'incertezza e quanto è difficile e quanta incertezza ci sta ecco io vorrei un po' ribaltare con l'equazione io penso che la scienza del clima ha molta poca incertezza rispetto a tanti altre branche del sapere non sappiamo quanto sarà il tasso di inflazione l'anno prossimo o la disoccupazione da qui a tre anni però posso dire con assoluta certezza che il livello del mare l'anno prossimo sarà almeno tre millimetri più alto di quanto non era l'anno scorso e posso sono disposto a scommettere dei soldi sul fatto che la temperatura media dei prossimi dieci anni sarà più alta della temperatura media degli ultimi dieci anni e così via quindi secondo me c'è questa responsabilità come persone che si occupano di clima di non enfatizzare abbastanza le molte cose che sappiamo ovviamente ci sono lo dicevo anche all'inizio ci sono tante cose che non sappiamo e questo è l'aspetto che ci motiva ma ce ne sono moltissime che sappiamo e come società non abbiamo saputo capitalizzare abbastanza su questa conoscenza ecco per cui per rispondere ho fatto magari un escurso su un po' a largo però per rispondere alla tua domanda io direi a chi mette in dubbio le informazioni che sono solidissime su quello che sul clima attuale e direi che perde un'opportunità e perde un'opportunità strategica nel senso che sappiamo qualcosa sul futuro che probabilmente lui non sa è un'opportunità che è un'opportunità che è un'opportunità